Tiene ancora a banco a Penne la situazione ospedale San Massimo dopo l'ufficialità di un imminente ritorno a presidio Covid Hospital. La notizia ha destato perplessità tra la popolazione ma anche all'interno del mondo politico pennese che si prepara tra qualche mese a vivere la tornata elettorale per la scelta del nuovo sindaco. Sulla vicenda è intervenuto il primo cittadino di Penne, il quale si è detto contrario alla scelta dell'azienda sanitaria locale. Pian piano stavamo recuperando in gran parte tutte quelle possibilità, quelle capacità che è in grado di esprimere l'ospedale San Massimo. Ovviamente questo ci porterà a fare nuovamente un salto indietro e io credo che non gioverà sicuramente all'ospedale. Questa mattina ho già inviato al sindaco di Pescara Carlo Masci la richiesta di convocazione urgente del comitato ristretto dei sindaci per affrontare questo spinoso problema. È ovvio che io non vedo, come forse qualcuno vorrebbe vedere, una lotta tra penne e popoli, sarebbe una lotta tra poveri. Siamo disponibili ovviamente a fare il nostro dovere in questa situazione trovando una soluzione che non danneggi né l'uni né gli altri. Questa decisione non è andata giù al circolo PD pennese, sollevando più di una preoccupazione sul futuro del nosocomio. Già nella prima volta quando il San Massimo è stato Covid Hospital ha portato un rallentamento nei servizi e molti di questi non sono più tornati nel nostro ospedale. Vediamo che in molti sono contrari a questa scelta e ci chiediamo davvero come la politica regionale sulla sanità possa prendere tali decisioni. A tuonare è anche il segretario regionale della FIALS, Gabriele Pasqualone, il quale parla di gravi mancanze della politica regionale e della possibilità di ripristinare il centro del Carmine e adibirlo a ospedale Covid. È una cosa in cui noi stiamo lottando, stiamo cercando di fare incontro, di cercare di rilanciare l'ospedale di penne. Malgrado le sue carenze, qui decidono di portare un'altra volta i pazienti Covid a penne. È una cosa assurda. Se loro vogliono portare i pazienti a penne c'è spazio, abbiamo la struttura del Carmine, basta strutturare qualche decine, migliaia di euro. Un piano può essere strutturato e messo i pazienti Covid. Non riesco a capire il motivo perché si deve ammazzare questo ospedale.